Giori readers, io sono Gio e voi state guardando Gioriz Oh, ben ritrovati! È un po' che non ci vediamo e è già Natale E come state innanzitutto? Quanto siete felici in questo periodo dell'anno? Amate il Natale? Non l'amate? Non lo so, a me piace anche se quest'anno Un po' come tutte le cose della mia vita è arrivato di colpo e non ero effettivamente pronta ad affrontarlo Ma, se qualcosa ci ricorda che è Natale qui su Gioriz è proprio questo video Che facciamo ormai ogni anno insieme dal 2015, cioè dal mio primo Natale sul canale Insomma, è diventato un appuntamento annuale per il nostro Natale su Gioriz E non è altro che il video wish list Amici e parenti, questo video è per voi E non è altro che un video dove vi elenco tutti i libri che mi piacerebbe trovare sotto l'albero a Natale Mi rendo conto che quest'anno, più degli altri anni, sarà più improbabile che io riceva libri Ma che frase è? Insomma, è più improbabile quest'anno rispetto ad altri anni che io ricevo tutti i libri che chiedo Me ne rendo conto, in particolar modo perché fra un mese mi trasferisco Quindi molti regali immagino saranno per la casa nuova Tutte cose utilissime, ma purtroppo io non sono una redatrice Non ho particolari desideri per la casa, quanto per i libri Quindi comunque questo video parlerà di libri Ma io direi che i preamboli sono stati fatti Possiamo iniziare Ovviamente per elencarvi tutti i titoli che voglio Per ricordarvi tutti i titoli che vorrei trovare questo Natale Prendo in mano la mia wishlist sul sito di IBS Che è chiara e limpida E insomma ottima per tutti Purtroppo non ve la posso linkare qui sotto Perché non credo che sia possibile vederla da chi non è effettivamente il proprietario dell'account Però magari vi linko comunque sotto i titoli in modo che possiate ritrovare tutto quello di cui abbiamo parlato Allora i miei desideri, sì mi rendo conto che sono tanti Ovviamente essendo troppi i miei desideri farò una cernita Ciò che vorrei in particolare questo Natale Il primo libro di cui parliamo quest'anno è di Paolo Murensig E si chiama Il diavolo nel cassetto Oltre alla bellissima copertina quello che mi ha incantato di questo libro è la trama Ci troviamo in un villaggio svizzero dove tutti gli abitanti si sentono un po' scrittori Una sera arriva un uomo molto particolare Che ovviamente in un villaggio di scrittori non è altro che un editore Ma in verità è mascherato da editore Perché non si tratta altro che del diavolo in persona Ed essendo quindi un paesino dove tutti sono scrittori e ambiscono ovviamente a essere pubblicati Chissà che cosa potrà combinare il nostro diavolo travestito da editore È una bellissima metafora sul mondo dei libri e dell'editoria E io sono molto incuriosita di leggerlo Quindi è il mio primo desiderio per Natale Tra l'altro si svolge in un piccolo burgo della Svizzera Quindi quando sarebbe bello leggerlo in inverno con il fuoco acceso Ed è una sorta anche di thriller Quindi insomma ha tutte le caratteristiche per piacermi molto Il secondo libro che vorrei è anche il terzo Invece sono due fantasy Perché mi rendo conto che è un po' che non leggo fantasy E ho voglia un po' di rientrare in quel mondo Il primo in particolare è edito da HarperCollins ed è Le nebbie di Avalon Che non è altro che il primo volume del ciclo di Avalon Di Marion Zimmer Bradley Bradley? 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 La storia si apre con il racconto della potente maga Morgana o Morgane Come è indicato sulla trama del libro Che ha deciso di ripercorrere quella che è stata la sua vita ormai giunta alla vecchiaia E di raccontare a noi lettori tutta la storia di Camelot Quello che mi incuriosisce di più è che la maga Morgane in questo caso Non ci racconterà la classica storia dei Cavaliere della Tavola Rotonda Ma ci racconterà la stessa storia attraverso gli occhi delle donne Che ne hanno fatto parte come lei Sono attratta da questo libro da quando è uscito E non vedo l'ora di poter leggere una storia che io amo Come quella dei Cavaliere della Tavola Rotonda Da un altro punto di vista Soprattutto conoscere la storia di quelle donne che ne hanno fatto parte Questo sarebbe un bellissimo regalo È il primo volume di una saga Non ho idea di quanti libri sarà composta Magari come sempre raggio del futuro Che si sarà informata meglio ve l'avrà scritto qui sotto In ogni caso le nebbie di Avalon Amici e parenti Questo è un ottimo consiglio per voi Il terzo libro di cui vi parlo invece è un libro Che probabilmente avrete già sentito In ogni dove, in ogni luogo Però io arrivo un po' indietro all'uscita Non ho voluto prenderlo anche perché quest'anno Ho fatto un fioretto sul risparmio appunto Dovendomi trasferire e mettendo tutti i soldi da parte per la casa E ho deciso di risparmiare un po' sui libri Quindi ho detto vabbè aspettiamo a comprarlo Ma forse è giunto il momento che questo libro mi sia regalato E sto parlando di I figli di sangue e di ossa Di Tomia dei Yemi Siamo nelle lussureggianti terre di Orisha E i magi che un tempo erano una popolazione venerata Per il loro contatto con gli dèi e con la terra Quando questo legame si spezza Vengono trucidati da una persona molto cattiva Che si chiama Re Saran Saran o Saran Il nostro protagonista è Zeli Che non ha dimenticato La notte in cui sua madre è stata prelevata Dalle guardie del re E impiccata all'albero di fronte a casa sua E tenterà di recuperare ciò che è stato perduto Tutti lo definiscono Tutti qui su internet Almeno lo definiscono Ho un fantasy perfetto Veramente ben riuscito Io ne ho sentito per ora parlare solo bene Quindi sono davvero molto incuriosita E anche questo potrebbe essere un ottimo regalo per Natale Potrei ripeterlo per ogni libro Me ne rendo conto Poi che cosa succede? Due anni fa ormai Si per Halloween l'incubo di House Che sapete ho amato Ho amato Shirley Jackson Ma purtroppo devo ammettere Che non ho recuperato mai nient'altro di suo Perché abbiamo sempre vissuto nel castello Devo dire Non mi ha mai ispirato così tanto So che dovrò recuperarlo Per recuperare comunque tutta la bibliografia di Shirley Jackson Però non so se è ancora il momento per me Quindi ho pensato di puntare su un altro titolo Ovvero Lizzie Lizzie parla di una giovane donna Con una vita apparentemente normale Che a un certo punto comincia a sentire Nella sua vita una sorta di peso Lei inizialmente non è il tipo di personaggio Che avrebbe fatto un'analisi personale Di sé Della sua mente Di ciò che va o non va nella sua vita Ma qualcosa si impone dentro di lei E lei impone di fare questo passo Come sappiamo Shirley Jackson è bravissima A inquietare le persone A fare una ricerca analitica Dell'io dei suoi personaggi E io sono molto attratta da questa sua nuova Nuova per me Non per altri Però di leggere di questa nuova protagonista Ovvero Lizzie E quindi direi che è un altro regalo Perfetto per Natale Non perfetto per il clima natalizio Perché potrebbe risultare un po' inquietante Come tutta la letteratura legata a Shirley Jackson Ma comunque è un libro che vorrei tantissimo leggere Quindi io ve lo lascio qui Ah qui ci spostiamo nel mondo young adult Anche se effettivamente anche i figli di sangue e di ossa Erano young adult Però è uscito il nuovo libro di Alexandra Brecken Che vorrei tantissimo leggere Perché mi ispira tantissimo dalla trama E si tratta del malefico caso di Alastor contro Redding Allora se devo essere onesta Io della Brecken per ora ho letto Passenger Che non mi era piaciuto particolarmente Non mi aveva neanche spinta minimamente a leggere Traveler Che infatti è ancora in libreria Ed è uno dei libri della Shame on Me Perché è una duologia Potrei leggere anche il secondo Devo dire che Passenger ce l'ho ancora abbastanza presente Però insomma non mi aveva emozionato così tanto Dalle dover sapere subito come andava avanti la storia Credo che prima o poi lo farò Ma intanto questo nuovo libro della Brecken Mi ispira molto di più dalla trama Questa è la storia di Prosper Redding Che è la pecora nera dell'illustre famiglia Redding Che vanta solo uomini di successo Da generazioni e generazioni e generazioni Ma Prosper si accorge Che la fortuna che attentrò la sua famiglia È legata a un patto che il suo bis 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 nonno Fece con un Cito Maleficiente Uno spirito che offrì successo e gloria in vita In cambio di Eterna servitù degli inferi Il problema è che Prosper si accorge presto Che il temore Alastor Si trova dentro di lui E esige vendetta Allora noi vogliamo sapere che cosa succederà E in particolare io Di questi noi Chi è noi? Noi Magari anche voi Vogliamo sapere che cosa succederà Quindi pensiamo che Oddio mi sento gollum Pensiamo Penso Che sia un ottimo regalo di Natale per me Amici e parenti Poi il prossimo libro Non vi sorprenderà per niente Si tratta di Obsidio Di Amy Kaufman e J. Christophe Il terzo capitolo della saga Di Illumine File E sì Perché a breve inizierà la mia rilettura Di Illumine Per poi leggere Gemina Per poi leggere Obsidio Avrei voluto leggerlo Avrei voluto comprarlo Appena uscito Ma Avevo sentito Arianna Di The Little Black Bull Chef Vi lascio magari il suo canale qui sotto Scrivere in una storia di Instagram Che le prime copie Avevano dei difetti Nella stampa Quindi non mi sono azzardata A prenderli A prenderli Avrei voluto andare in librerie E controllare Che la copia fosse integra E stampata correttamente Per poi prenderla Ovviamente non l'ho fatto E mi sono ridotta sotto Natale Quindi Anche se volete regalarmi Magari fate un check Che sia fatta bene La copia Lo so che sono una rompiballe Cosa devo fare Ma di che cosa parla Obsidio Non si può dire niente È la terza Compagno 9 Della saga Di punto di Illumine File E Non si può dire nient'altro Per me sarebbe un bellissimo regalo Anche questo Ma che lo dico a fare il video Parla dei bellissimi regali Che vorrei ricevere Potrei non dirvelo ogni volta Me ne rendo conto Il prossimo libro invece Mi è stato ispirato Da Miss Fiction Che ha sempre l'occhio lungo Per gli ottimi libri La buia discesa di Elisabeth Frankenstein E Kirsten White In questo libro facciamo un passo indietro Rispetto a quella che è la storia Che conosciamo tutti di Frankenstein E comincia tutto con suo padre Quando il giudice Frankenstein Decide di andare a un orfanotrofio E prendere una bambina Per renderla la compagna di giochi Di suo figlio Victor La bambina è la nostra protagonista Elisabeth Elisabeth ovviamente Per non farsi sfuggire Questa possibilità Di una vita agiata Rispetto ovviamente anche a quella Che aveva avuto finora nell'orfanotrofio Decide di mettere tutta se stessa E diventare una grande amica di Victor Però cominciando a crescere Elisabeth percepisce Che in Victor c'è qualcosa che non va Qualcosa di incredibilmente malato Di incredibilmente oscuro Ovviamente sono incredibilmente curiosa Di scoprire quest'altro lato Della storia di Frankenstein E potrei finire con il solito ritornello Ma ora passiamo al prossimo libro Per concludere questa selezione L'ultimo libro che vorrei per notare Si discosta un po' dalla lista Che abbiamo appena visto Infatti si tratta dei Miserabili Di Victor Hugo Io ve l'ho detto tantissime volte Da quando siamo insieme In questa avventura di booktube Da piccola i miei libri preferiti Erano l'Odissea e i Miserabili Sì, era una bambina strana Molto probabilmente E ovviamente io non leggevo Le edizioni integrali Dell'Odissea dei Miserabili Ma dei libri per bambini Illustrati Però la storia insomma Grandi linee era quella Tolte le cose un po' più Trucolente di entrambe le storie Però la storia appunto Era quella Erano i miei libri preferiti Addirittura mi ricordo Che i Miserabili Avevo questa edizione grande Grandissima Il libro era verde C'era anche la videocassetta Quindi io seguevo il libro Guardavo la videocassetta Ero innamorata Non so che fino a che hanno fatto Quei libri E sono pentita Mi sono pentita Maramente di averli dati via Con il tempo Però vabbè Ma veniamo a noi Appunto Secondo me a 26 anni È giunto il momento Di leggere La lezione integrale Di Miserabili Di Victor Hugo Anche perché Sto pianificando Di andare a vedere Il musical Che io amo A Londra A breve si spera E quindi Perché non fare Anche una lettura Integrale dell'opera Allora Mi rendo conto Che Victor Hugo Parliamo di Victor Hugo Quindi non parliamo Di romanzi brevi Sono tantissime pagine E non so esattamente Quando lo leggerò Avrò il tempo Se lo inizierò subito O no Però insomma È un grande classico Io credo che una copia Per un amante dei libri Soprattutto un amante Di questa storia Sia indispensabile Detto questo Ovviamente ho fatto Una grande ricerca Sulle traduzioni E Dall'internet È saltato fuori Che l'edizione Con la migliore traduzione È quella della burra Che io Vi metto appunto qui Quindi Di nuovo amici e parenti Vi indico anche L'edizione esatta Qualora vogliate Regalarmi questo libro Benissimo Questo video è finito È durato anche più del previsto Però so che ogni anno L'ho apprezzata Ed è un po' Il nostro modo di Festeggiare Un prenatale insieme A questo punto Io vi chiedo Di elencarmi La lista dei libri Che voi Vorreste ricevere a Natale So che Probabilmente siete Bibliofili come me E la lista è Di tipo 380 libri Però magari Selezionate I 5 libri Che desiderate Maggiormente Ricevere a Natale E fatemeli sapere Qui sotto Ma in particolare Voglio sapere Se abbiamo Qualche cosa in comune E a me Non resta che Andare in chiusura E salutarvi Come sempre Io vi invito Qualora il video Vi fosse piaciuto A lasciare un pollice in su Che è sempre molto apprezzato Se vi va Iscrivervi al canale Potete farlo Cliccando sul tondone Qui di fianco E qui sotto Vi lascio altri video Se volete restare ancora In mia compagnia In mia compagnia Per i video di Natale Per ora è tutto Ma spero di riusciermi A fare un altro Entro il 25 E non mi resta Insomma che Mandarvi un enorme bacio E ci vediamo Al prossimo video Ciao